Santa Francesca Romana Nata nel 1384 da nobile famiglia, era molto colta. A 13 anni sposò Lorenzo Ponziani, un nobile romano che viveva in un palazzo a Trastevere. Si fece subito amare dalla famiglia del marito, ebbe tre figli di cui solo uno divenne adulto, o però a favore dei poveri. Visse a Roma in uno dei periodi più critici della sua storia, quando subì lo scisma d'Occidente e la presenza degli antipapi. Quando il Papa fuggì ad Avignone e a Roma scoppiarono guerra, peste e carestia, Francesca si dedicò ai poveri e ai malati. Per aiutare i poveri, medicava per le strade. Nel 1425 fondò la Congregazione delle Oblate Olivetane, prese i voti dopo la morte del marito. È patrona delle vedove e protettrice degli automobilisti. È invocata contro la peste per la liberazione delle anime del purgatorio.